Sono Salvatore Clemente e Patrizia Donati, vincitori del quarto concorso di fotografia nazionale Città di Anghiari. Sono stati 56 fotoamatori, direttanti e professionisti che hanno partecipato al concorso organizzato dall'Associazione dei Commercianti Levie di Anghiari, con il patrocino e il supporto dei vari operatori del centro storico e del comune, nell'intento di promuovere le attività culturali, turistiche ed artistiche del borgo medievale. Oltre 300 invece gli scatti presentati per i due temi proposti nel concorso, tema libero a colori e bianco e nero e tema fisso, angoli di Anghiari. La giuria della quarta edizione del concorso patrocinato anche dall'Unione Italiana Fotoamatori ha decretato come vincitore per la sezione tema libero il palermitano Salvatore Clemente, primo posto nella categoria angoli di Anghiari invece alla retina Patrizia Donati.